Un saluto di benvenuto a nome del comitato organizzatore di questa conferenza che si chiama Let's 2014, che sta, voi siete tutti familiari con l'inglese, Leading Enabling Technologies for Societal Challenges. È una conferenza che entra nell'ambito degli eventi del semestre di presidenza italiana dell'Unione Europea. È l'unico evento del semestre della presidenza italiana dell'Unione Europea che si svolge qua a Bologna. Ha iniziato lunedì, abbiamo più di mille partecipanti iscritti, con voi ovviamente ancora di più, e noi siamo veramente molto contenti di avervi tutti. Grazie Armida, ringrazio tutti voi, buongiorno. Prima Luisa Tondelli ha detto che abbiamo avuto relatori di altissimo livello, non è il caso della comunicazione che avrete con me adesso. Vorrei iniziare subito con questa chiacchiera e con una di quelle domande che ci hanno fatto e che ci fanno sempre. Cosa farai da grande? Sappiate, ragazzi, che sia chi lo sa che chi non lo sa e i secondi noto che sono numerosi, sono nella norma completa. Cioè, cosa farai da grande? È una di quelle domande che ci affliggono per buona parte della nostra esistenza. Questo è quello che avrei voluto fare io nel tempo. Non sempre si farà quello per cui si è studiato. Due esempi, Michael Crichton, uno dei miei scrittori preferiti, era medico purtroppo, è diventato uno scrittore regista, ha fatto Jurassic Park, Congo, Iare e compagnie belle. Sergio Marchionne, tutti sapete chi è, amministratore delegato, CEO adesso si usa a dire, di Fiat, Chrysler, FCA. È un filosofo e file manager. Che è Cozzalone, lo conoscete tutti, è laureato in giurisprudenza. Il ministro dell'istruzione che tra poco incontrerete è una glottologa e fa il ministro. Spesso gli educatori, i nostri genitori soprattutto, chi ci sta vicino, ci dicono ma tu non lo sai cosa vorrei fare da grande. Ma cosa ti piace? cosa ti piacerebbe fare? Avrai una passione. Spesso purtroppo la risposta è che non lo sappiamo ancora, non sappiamo cosa ci piace, non sappiamo cosa vorremmo diventare. Allora non è che siamo sbagliati perché non sappiamo cosa vorremmo fare. Sappiate che è una cosa normalissima nella quale tutti quanti siamo passati. La prima cosa che dobbiamo fare è guardarci dentro. È come se ognuno di noi fosse di un colore diverso. C'è chi è azzurro, chi è rosso, chi è verde. Uno deve guardare se stesso e capire qual è il proprio colore per poi scegliere delle cose che siano compatibili e si sposino bene col proprio colore. Allora la cosa importante è guardarsi dentro. Chi già sa cosa vorrà fare da grande, una sola cosa deve fare. Lavorare duro per raggiungere il proprio obiettivo. Chi non lo sa, mi spiace, ma anche quello lì deve lavorare duro. Però deve lavorare duro per capire di che colore è, qual è la propria passione, quali sono le cose che gli piacciono. Quello che dobbiamo fare è provare, 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 provare e cercare di essere originali, non seguire soltanto percorsi già battuti dagli altri. Non è che dobbiamo per forza diventare tutti i calciatori oveline, ma ci sono delle cose che provando a farle magari o scopriamo che non sono il nostro percorso o magari scopriamo che inaspettatamente ci piacciono e potremmo anche fare delle scoperte assolutamente curiose e inaspettate. Purtroppo, mi spiace, ma bisogna darsi da fare. È un sogno quello che dobbiamo perseguire, di capire di che colore siamo, capire dove vogliamo arrivare e capire come ci vogliamo fare. Ma l'unico modo per realizzare i propri sogni è svegliarsi e darsi da fare. Grazie e in bocca al lupo a tutti voi. E ora è il mio turno. C'è questa frase di Einstein che dice che se tu non sai spiegare una cosa in modo semplice allora non l'hai capita a sufficienza. Questa frase è un po' il nostro motto perché i ragazzi dopo che hanno incontrato i ricercatori devono trovare loro le parole, il linguaggio, per raccontarlo ad altri loro coetanei. Quindi praticamente questo progetto, promosso dal CNR e dall'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica, fa un po' da ponte tra la ricerca e la scuola da oltre 11 anni. Proponiamo attualmente 30 argomenti su varie tematiche di ricerca piuttosto attuali, tipo dalle nanotecnologie, nuove energie pulite, agroalimentare, astrofisica, fisica eccetera. A questo punto sono gli studenti, se siete voi, che con l'aiuto degli insegnanti spiegano quell'argomento che hanno ascoltato e lo spiegano agli altri con il loro linguaggio e lo devono fare in due modi, in italiano e in inglese. Questo è richiesto alle superiori, alle scuole medie invece è richiesto solo l'italiano. Però ci deve essere un approccio divulgativo, cioè la regola è mai annoiare. Cominciamo con le premiazioni. Allora i primi che saranno premiati sono le scuole medie. Ok, quindi cominciamo con le LDR Junior. Grazie Armida, buongiorno a tutti. Iniziamo subito con la premiazione, la prima. La prima tematica di ricerca riguarda la malaria e come la si combatte con recenti scoperte in campo chimico. Per questa tematica abbiamo premiato la classe seconda E della scuola Gozzadini, premiamo tutta la classe, quindi invito sul palco a tutti i ragazzi della seconda E, accompagnati dalla professoressa Maria Teresa Lombardo e dalla dottoressa Claudia Stasi. Consegna il premio alla professoressa che accompagna la classe, il dottor Stefano Versari, direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna. Diamo il benvenuto al Ministro dell'Istruzione dell'Università della Ricerca, Onorevole Senatrice Stefania Giandini. Grazie mille di cuore di essere qua con noi. Grazie. È un grande onore. Insieme con il Ministro. Il second award di questa scuola è un'applicazione per i mobili, e ha chiamato la periodica table. Grazie mille. I'm really very happy, and it's an honor and a privilege to be here with you, dear students, and to have the opportunity to touch with my hands the work you are doing in the Italian schools. And this is very important. I think it's a crucial issue for Italy and Europe, which is the role of research and the link between research and education for the future, the growth and development of our continent and our countries. Education can really be the most important driver of our future, of your future. So it's very important, and you are here, to be acknowledged in the work you did in the last year, I think. And my best wish is try to choose your way, try to choose what you love and what you think in your mind, in your soul, to do in your life. But try to consider that learning, not only languages, but also many other topics, can really be the true driver for your life, too. So, buon chance, good luck, buona fortuna a tutti.